Non ho orgoglio di avere qui nuovamente la diecima edizione di questo rally, sarà il primo di una serie di manifestazioni sportive, soprattutto a carattere proprio motoristico, che vedranno qui la città di Arezzo protagonista, quindi ringrazio gli organizzatori nuovamente per aver fatto passare questo rally di Arezzo, anche perché noi abbiamo una tradizione che va avanti da anni, quindi Arezzo è considerata una città rallistica per Antonio Masi. Voglio rinnovare i complimenti agli organizzatori perché hanno fatto un lavoro veramente certosino e meticoloso nella preparazione della gara. Questo tipo di sport tra l'altro configura anche un'educazione stradale se vogliamo, perché tra l'altro in questa occasione vedo che ci sono circa 90 iscritti, vedo che ci sono tantissimi giovani under 23 iscritti e quindi chi vuole correre, la passione di correre, è bene che lo faccia nei posti e nei luoghi preposti con la massima sicurezza. Lo svolgimento è sostanzialmente identico a quello dello scorso anno, quindi con verifiche nella giornata di sabato, sabato pomeriggio la cerimonia di partenza e domenica lo svolgimento della gara con i quattro passaggi sull'Alpe di Poti. Grazie. 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 Grazie.